Ho deciso di fare questo film perché quando Francesca Archibugi me l'ha offerto e mi ha dato il copione da leggere, ho trovato questa storia molto interessante, delicata, sensibile, profonda, ironica, anche divertente e siccome di lei conoscevo, già sapevo delle qualità di Archibugi, ho detto va bene, mi piace, sono contento e anche perché è una giovane regista e questo a me piace, mi rinfresca, mi rinnova. Forse sono, credo, al mondo l'attore che ha fatto più film con le donne perché io ho fatto cinque film diretti da delle donne, Nadine Trantignan, Lineverto Miller, Liliana Cavani due volte, Francesca Archibugi e anzi direi che le donne registe hanno un aspetto che non ha il regista uomo, cioè una certa, un certo affettuoso sentimento a volte materno, gentile, molto delicato, caldo che all'attore che poi alla fine è un bambino, l'attore è un bambino cresciuto, lo fa sentire molto a suo agio. Ma è un mestiere, una professione, i momenti curiosi sono solo quelli quando c'è il sole piove o viceversa, oppure non lo so, se un'attrice fa i capricci, se un attore fa i capricci, se si rompe una lampada, se manca la pellicola, se finiscono i soldi per finire il film. Questi possono essere i momenti curiosi, altrimenti non so, non è capitato raramente di dire ah fu un momento strano, un episodio, un aneddoto. Noi in questo film abbiamo lavorato in assoluta piacevole proprio l'atmosfera, quindi semmai la curiosità è questa, è di aver lavorato bene durante due mesi, a parte il caldo un po' eccessivo che abbiamo sofferto, perché il film è ambientato in un villino, un piccolo villino, quindi le stanze piccole, le finestre chiuse per poter fare la presa diretta e quindi per non avere rumori, e allora una certa insofferenza al caldo, quindi un po' di disagio fisico, quel sudore è stato un po' il nostro nemico, ma per il resto tutto è filato a meraviglia proprio, nella più assoluta disponibilità da parte di tutti, comprensione e soprattutto di stima. Io non sono questo, non sono proprio a quell'altezza, forse ho qualche corda a livello umano più gentile, più consapevole, sono forse a tratte anche immerso un pochino più di lui nella realtà che viviamo, però sì c'è molta diversità, ma in lui comunque io ho apprezzato un'onestà di idee, di posizione, di responsabilità e poi mi è piaciuto molto che verso la fine lui capisce di aver commesso tanti errori nella sua vita, che così un po' con i paraocchia ha inseguito dei sogni, degli ideali e non si è accorto che le cose invece andavano trattate in un modo diverso, con una mano diversa ed essere così un pochino meno professori e essere un pochino più compagni di banco di quel giovane che stava accanto a te, al quale avresti potuto insegnare delle cose, trasmettergli la tua conoscenza delle cose dell'uomo e questo lo rende, me lo rende a me insomma molto amabile, ecco, questa dolorosa scoperta che lui compie via via nel corso del film. Io gli anni 70 li ho vissuti non immerso nelle lotte, nelle battaglie, nei sogni, nella disperazione, che hanno vissuto tutti quei giovani che dal 68 in poi o forse già prima del 68 hanno vissuto. Facendo questo mestiere io ho avuto il privilegio, ma il privilegio forse è stato un limite, di vivere al di fuori di questa mischia. Perché? Perché il cinema, pur volendo parlare della realtà, alla fine come professione è un po' fuori dalla realtà. È un mestiere, l'ho detto tante volte, nel quale noi tutti siamo lì ad affannarci, a tentare di raccontare fiabe, ora belle, ora dolorose, ora comiche, ora drammatiche. E questo crea fra noi e la realtà vera, una sorta di filtro, un qualche cosa, c'è un cristallo, insomma. Stiamo un po' sotto una campana di vetro. Cioè fingiamo di raccontare queste storie, fingiamo di viverle, le viviamo da attori. Il discorso può apparire un po' retorico, ma poi in realtà è così. Quindi può darsi che io abbia riscoperto un po' di tutto questo attraverso il film, visto che parte da quegli anni e viene verso di noi. Allora non ho partecipato a questa importante avventura che sono state quelle decine di anni e forse anche di più le conseguenze, forse quelle negative, insomma, le viviamo ancora oggi. Ma poi appunto il cinema mi pareva che potesse non essere coinvolto. Cioè alla fine l'attore è un piccolo borghese tutto sommato, non è un rivoluzionario. Lo è quando recita il ruolo di un rivoluzionario. Lo ha fatto in maniera sublime, eccezionale, immediatamente dopo la guerra. Ha raccontato i drammi, le tragedie di un dopoguerra che ha distrutto mezzo mondo, che ha distrutto vite, che ha distrutto famiglie, che ha distrutto animi, che ha distrutto cervelli, che ha distrutto tante cose. Il cinema lo sapeva raccontare molto bene. Adesso è un momento in cui, non lo so, forse c'è un momento di trapasso, un momento in cui siamo un po' al parcheggio, aspettando di trovare poi il semaforo verde, il segnale di via. Accade, accade sempre, in tanti periodi, non solo oggi. Il cinema è come un romanzo, voglio dire, come la letteratura. Si è sempre a parlare, lo si fa attraverso la pellicola, o con la pellicola invece che con il foglio scritto. Oggi stenta, questo deve essere dovuto poi anche ad altri problemi, problemi di un certo appiattimento delle cose, e questo è vero. E' più raro questo bisogno di venire fuori, di ritornare a gala. Bisogna dire la solita cosa convenzionale, bisogna toccare il fondo per bene, per poi risalire alla superficie. Mi imbarazza anche un po' dire questa cosa perché sembra sciocca, ma sarà così probabilmente, altrimenti già sarebbero accadute. Sì, ci sono dei film che si affannano, si sforzano, film diretti adesso da dei giovani, ma non è ancora abbastanza, mica per colpa loro, per un assieme di cose. Viviamo in un mondo, di una società talmente disastrata, corrotta, violenta, dove forse è un momento più difficile poterne parlare, ma non escluso che lo si faccia domattina. Insomma, cari amici, mi è stato chiesto di mandarvi un saluto attraverso lo schermo. La cosa, devo dire, mi imbarazza anche un po', perché ho detto io, attenti, non è che ci arriverà la pernacchia, non vorrei neanche avere l'aria di quello, sai quando si vedono i ministri, i deputati, quelli che fanno i discorsi alla televisione. Ho un ricordo bellissimo, di un incontro che feci con voi, o forse oramai saranno lavorati questi studenti che io incontrai tre o quattro anni fa qui nell'aula magna dell'università. Insomma, perché l'incontro fu vivace, fu bello, fu pieno di ironia, fu, almeno per me, a me così apparve, anche divertente. Lo dico sempre, avrei preferito poter incontrare voi piuttosto che fare le interviste separate con i vari giornalisti, ma purtroppo che vogliamo fare? Io, in questo momento, mentre faccio questa intervista, sono a Roma, ma quando voi la vedrete, io sarò sulle montagne alla frontiera fra la Grecia e l'Albania a fare un film con Angelopoulos. È impossibile tornare a Roma per questo incontro, perché proprio non c'è il tempo, non c'è, direi, la possibilità fisica, materiale. Che vi devo dire? Spero che il film vi sia piaciuto, spero che abbiate un po' di comprensione per questo povero professor Bruschi, che insomma potrebbe essere stato uno dei vostri insegnanti, quindi giudicatelo con un po' di pietà, come è accaduto a me, dovendolo interpretare, se sono riuscito ad esprimerlo nel migliore dei modi, spero. A me mi ha fatto molta compassione il professor Bruschi, pena, e anche molta simpatia, ve l'ho detto. Oh, a parte questo, insomma, spero che a me ci sia piaciuto tutto il film. Oh ragazzi, ma che vi devo dire? Sarà per la prossima volta, un prossimo… ah, vi faccio tanti auguri per le feste, per Natale e Capodanno, e se volete pure per la Befana, pure se non c'è più. Io non so che altro dirvi. Qui fa un freddo, fa molto freddo, mi raccomando, non le permacchi. Arrivederci. Come faceva quello? Orlando.